John Borno, John Borno, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono abbastanza... Ho, ho, ho un parere, ho un parere. Traore, Traore è un nuovo giocatore del Napoli, è ufficiale. A breve arriverà anche in Campania, poi farà le visite mediche e tutto quanto. Adesso non può farle, mo vi spiegherò anche perché. Però è un nuovo giocatore del Napoli. Ho un parere, ho un'idea. E non è un'idea che mi piace. Vi dico la verità. Nel senso, io sono sempre molto oggettivo quando si tratta di ogni, di ogni acquisto. Io sono uno di quelli che quando il Napoli prese Angissà, recuperatevi il video, fui uno dei pochi a dire il Napoli ha fatto un colpo della Madonna, diventerà un titolare e uno dei più forti centrocampisti del nostro campionato. Eh, vabbè, esageri quello e quell'altro. Eh, quello è. Quando il Napoli prese un dombele, dissi, bel giocatore, però le cifre mi portano a pensare che è quasi impossibile che il Napoli tenga un dombele. Ed è quello che di fatti è successo, no? Ora, non è che succede sempre quello che dico, perché non è così. Quando il Napoli prese Bagaglio Go, a me Bagaglio Go piaceva. E invece fece, no ridere, fece schifo proprio, fece schifo. Quindi, diciamo che può capitare che mi sbaglio, però delle volte ho dei pareri positivi, degli altri ho dei pareri negativi. Per me il Napoli che prende mazzocchi, per quelle cifre, in quel modo là, per un discorso di progettualità, è un acquisto, è un colpo che ci sta. È un colpo che comprendo. È un colpo che accetto. D'altra parte, però, se il Napoli mi va a prendere, e vi dico le cose per come le penso, Ahmed Traoré, nella situazione in cui è il Napoli, con la progettualità che ha messo in piedi il Napoli, e a cifre di questo tipo, per me non è un colpo sensato. Vi dico le cose per come le penso, a costo, a rischio, poi di prendermi gli insulti, magari di rivedere tra qualche mese e rendermi conto che è rompirla. Però io vi dico le cose per come le penso. E queste, oggettivamente, sono le cose che penso. Punto numero uno. Dove arriva Samarzic? Arriva lui per Samarzic? Boh. Cioè, con tutto il rispetto per Ahmed Traoré. Ora, chi penserà ad Ahmed Traoré in Italia un anno fa, perché se ne è andato a gennaio dell'anno scorso, si ricorderà a me, Simone, Sickwolf, che tesseva le lodi di Ahmed Traoré. Perché a me Ahmed Traoré piace. Piaceva, poi, insomma, sei un po' perso, ma piaceva tantissimo come giocatore. Perché è un buon giocatore. Però, l'avete visto in Italia, avete visto in Italia Samarzic, nulla contro nessuno, ma Samarzic, Ahmed Traoré, cioè, se io prendo l'Amed Traoré nel Prime, perché poi Ahmed Traoré era forte al tempo, cioè lui era già forte, era già fortissimo ad Empoli, e ci aveva manco 18 anni, ed era fortissimo anche al Sassuolo, però il Prime di Ahmed Traoré non è mai stato il Prime di Samarzic. E Samarzic l'ha dimostrato molto prima di Ahmed Traoré. Ora, non voglio fare dei paragoni che poi possono risultare scomodi, perché tante volte nella storia è capitato che un giocatore sembra più forte di Nantri, io mi ricordo che al Bari, Ranocchia sembrava più forte di Bonucci, al Verona, Cumbulla sembrava più forte di Rachmani, sono tutte situazioni che poi sono state prontamente smentite quando i giocatori hanno fatto il grande salto. Quindi questa cosa io non posso dirla come se fosse la certezza. Però su, Ahmed Traoré al Napoli, per le ambizioni che c'erano, per le cifre, per la progettualità, io vi dico la verità, a me non torna nulla. A me, nelle mie tasche, non torna nulla. Questo è un giocatore che al Bournemouth ha faticato tantissimo. Tantissimo. Ha fatto sette presenze da gennaio a giugno, sette presenze da gennaio a giugno, ed era appena arrivato per 25 milioni di euro, quindi l'avevano preso come l'investimento per salvarsi sette presenze. Quest'anno, da settembre a gennaio, quindi gli altri sei mesi, ha fatto tre partite in Premier League. Tre partite. Cioè, rega, ora vabbè, ora Poraccio ha pure la malaria, per questo ancora non può fare le visite mediche, poveraccio se ha contratto la malaria. Però, al di là di questo, cioè, è un giocatore che ha fatto dieci presenze in un anno, in un anno solare, da gennaio a gennaio in Premier League, in una squadra di medio-basso livello, che era stato preso per essere devastante, per spappolare qualunque cosa, doveva far dimostrare, io vi ricordo, il Bornemut doveva prendere Zaniolo, perché gli serviva il giocatore che lo portasse alla salvezza, ha preso Traoré, questo è stato Traoré, poi, è un 2000, è un 2000, cioè, quant'anni c'ha? 23 anni, 23 anni, non ne ha ancora compiuti 24, è un 2000, Samarzic era un 2003, era un 2002, scusatemi, e Samarzic per me è già più pronto, questo Samarzic è più pronto, nonostante abbia due anni in meno, di Ahmed Traoré, questo Samarzic, due anni fa, quando, anzi, un anno fa, quando Traoré era devastante come trequartita del Sassuolo, è più forte di quel Ahmed Traoré, ma poi, soprattutto, no, permettetemi di cercare di capire una cosa, questo è un trequartista, ma il Napoli, ma che tipo di mercato sta facendo? Cioè, tu hai preso Mazzocchi, che è un esterno a destra, poi però col Torino hai preso una scatafasciata da qui dietro, ma hai fatto la difesa a quattro, ok? Quindi non hai cambiato modulo, adesso stai andando a prendere un trequartista, cioè tu non stai andando a prendere un centrocampista, un interno, stai andando a prendere un trequartista, l'ennesimo, trequartista, cioè l'ennesima idea di andare su un trequartista, poi voi vi direte, vabbè Sic, però lui ha fatto l'ala sinistra, è vero, vabbè Sic, però lui ha fatto l'interno di centrocampo, ha fatto la mezzala, è vero, però ha fatto, cioè tu stai andando a comprare un giocatore, tu stai andando a mettere delle cose, delle robe, della roba solida sul mercato, per andare a prendere un giocatore che ha un ruolo diverso da quello che ti serve a te, che vai ad adattare e che lo rendi un giocatore che farebbe quello che vuoi tu, cioè nel senso, già che stai a far mercato, ma prendi una mezzala se ti serve una mezzala, ma prendi un mediano se ti serve un mediano, ma prendi un'ala se ti serve un'ala, non prendere un trequartista che può fare un po' tutto, e qualcuno mi dirà, beh però, perdi Zieliski, ok, cioè a giugno il Napoli perde Zieliski, Zieliski il polacco non rinnoverà il contratto, e va bene, perdi Zieliski, e Zieliski è un giocatore che fa la mezzala, ma che la fa da trequartista, ora io ve ne parlavo in un video precedente, in Italia è da quando poi ha inventato Guardiola il fatto di mettere le ali abbassandole a mezzali, in Italia è stato un pochino esasperato, e coteva essere esasperato questa cosa della mezzala, che in realtà è un trequartista, e la fa la Lazio con Luis Alberto, che nasceva trequartista e è diventato mezzala, l'Inter con Mkhitaryan lo faceva prima, la Roma con Mkhitaryan, lo fanno in tanti, non me vengono tutti, ma lo fanno veramente in tanti, c'è questa tendenza a mettere il gioco, lo faceva Cialanoglu prima all'Inter e ancora prima al Milan, faceva la mezzala, poi la trequartista in realtà ha fatto molto bene, però all'Inter faceva la mezzala prima di diventare mediano all'Inter, e funzionava, l'Inter stessa con Eriksen, prima che appunto successe o non è successo, e poi andrà già altrove, per questo vi dico che questa tendenza c'è, però, allora, se tu vuoi spingere su quella tendenza, tu mi devi prendere un giocatore che in futuro mi sostituisce il trequartista Zielinski che sta partendo, e lui non me lo sostituisce, voi mi direte perché non te lo sostituisce Samarzic, sì? Perché Samarzic era un colpo in cui De Laurentiis diceva, tieni, prendi i miei soldi, spendeva, si portava a casa un 2002, e partiva da lui, questo, io non posso dargli un brutto voto, non posso dare tre, non posso dare quattro a Traoré, perché comunque è un tutto deguadagnato, è un prestito, con diritto di riscatto, e da quanto ho capito non è nemmeno un prestito oneroso, cioè quindi il Napoli oltre a pagargli lo stipendio non sborsa nemmeno un centesimo, paga lo stipendio e basta, però è un riscatto a 25 milioni di euro che è la stessa cifra più o meno che pagarono gli inglesi, però ragazzi, questo, quando lo riscatti, cioè a te ti servirebbe, e poi tocca capire se ti spendi quei soldi, che Traoré arriva e diventa Gesù, a cento, diventa un genitore, ma chi è, ma questo chi è, ma questo dove è uscito, ma come fa ad essere così forte, Hamed Traoré, ma come fa ad essere così devastante, Hamed Traoré, ecco, questa è l'unica cosa, a mio avviso, che può permettere il riscatto a 25 milioni di euro, aggiungo anche un'altra cosa, che il Bournemouth lo ha pagato 25 milioni e 700, cioè, e a quel momento il giocatore era al top, era il titolarissimo del Sassuolo, un Sassuolo che ci aveva Frattesi, ci aveva Scamacca, ci aveva Berardi, ce l'ha ancora Berardi, e vendeva a sugo di caramella, cioè vendeva a prezzo d'oro, cioè se tu volevi prendere un giocatore del Sassuolo e gli pagavi un botto, tant'è che al tempo, per me, già 25 milioni, erano tantissimi, tantissimi, ok? Cioè, se mi avessero detto quanto spendi per lui, io vi avrei detto, bah, 15 milioni, 16 ad esagerare, 25 milioni, erano tantissimi, la Premier poteva permetterselo per il discorso dell'inflazione, del carico dei prezzi, e va bene. Ora, capite bene, però, capite bene, ne capite bene, però, che 25 milioni adesso, per me, tu non lo riscatti mai, cioè, ma veramente mai, e quindi a giugno tu te trovi, senza Ahmed Traoré, perché non lo riscatterai, senza Zielinski, e devi andare a reinvestire sul trequartista. Ora, ripeto, o cambieranno modulo, non l'hanno fatto col Torino, con Mazzocchi e Traoré, può essere, e sarebbe anche ora, secondo me, visto che poi, almeno daresti, faresti via il modulo all'allenatore, che fa quel modulo lì, invece di costringerlo, tra Miro e Greta, voglio fare 4-3-3, che non è manca il suo, non l'ha mai fatto in carriera, però sarebbe importante capire, loro lo sapranno, noi facciamo delle analisi, da bar, qui, loro lo sapranno, non capisco, poi non capisco, un'altra cosa, non capisco, il Napoli vuole proprio il trequartista, perché, prima era Samarzic, Mouet Traoré, si è parlato anche di Barak, tutti i giocatori che possono fare, anche le mezzali, no, Barak alla Fiorentina fa la mezzala, ma Barak è un trequartista, reinventato a mezzala, sì, sì, faceva la mezzala, fa la mezzala con la Fiorentina, e tutto quanto, ma Barak, dai tempi dell'Udinese, dai tempi del Verona, è un trequartista, è un altro giocatore, è un altro cazzo di giocatore, che è un trequartista, cioè, quindi non capisco, l'idea del Napoli, di sciorinare trequartisti, come se piovessero, comunque, due informazioni su Ahmed Traoré, prima di concludere, giocatore che è bravissimo nei calci piazzati, giocatore che sbaglia pochi passaggi, cioè, allora, non è bravissimo nei passaggi, a dire la verità, non è uno di quelli che distribuisce un botto di passaggi, anzi, spesso li sbaglia, però è bravissimo nel osservare il corridoio, cioè, lui vede l'insegnamento del giocatore, infatti fa un botto di assist, o comunque a Sassuolo faceva tantissimi assist, e questo potrebbe aiutare, avendo Kvarashkelia, e avendo Ozyman, dà una mano anche in difesa, e non è scontato per un giocatore che di solito gioca trequartista, è per questo che ha fatto anche l'esterno a sinistra, proprio di centrocampo, oltre che l'ala sinistra, ma con il contributo difensivo, e anche l'interno, perché comunque sa dare una mano, resta comunque un giocatore con doti da trequartista, però è bravino anche nella contribuzione difensiva, e invece è meno bravo nel finalizzare, non segna tanto, segna molto poco, certo è ancora giovane, alcune caratteristiche deve anche svilupparle, però è un centrocampista, un trequartista sotto sto punto di vista, anche atipico, perché è vero che c'ha il dribbling facile, e quindi c'ha l'idea della fantasia, e che calcia tanto appena vede la porta, pure se poi la porta difficilmente la prende, o comunque la prende, ma non trasforma, però è un giocatore coraggioso, va spesso a contrasto, e recupera un botto di pallone in mezzo al campo, quindi queste sono situazioni che, ripeto, il giocatore a me non dispiace, ok, non dispiace, per la progettualità del Napoli, sì, perché io mi aspettavo completamente un'altra cosa, mi aspettavo un Napoli che facesse completamente un'altra cosa, e questa cosa qui, completamente diversa, il Napoli, dal mio punto di vista, non l'ha fatta, voto 5,5, questo è il mio punto di vista, fantacalcio, non lo so raga, vedete un attimo adesso il Napoli come gioca, perché oggi che vi dico, poi qualcuno mi diceva, va basic, ma negli anni dei 5 cambi al fantacalcio da consiglio è impossibile, sono d'accordo, che vi dico, non lo so, cioè, se il Napoli cambia modulo e tra ore diventa un titolare, vi dico sì, ma tra ore diventa un titolare, Coppolitano, Cavaraschelli e Osimena, non lo so, non lo so, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, io vi ringrazio, buo cialala all'enno come sempre, ci vediamo al prossimo video.